Ok, questo è il cancello chiuso di prima, ma adesso, quindi questa è l'entrata, ingresso, questo è quello che si vede all'ingresso, si entra, fontana, alla sinistra subito c'è questa terrazza dove loro vorrebbero fare il buffet, quindi si sta qua con tutti gli ombrelloni, il buffet, il panorama è dietro, comunque poi te lo faccio vedere meglio, comunque questo è l'ingresso, fontana, giardini, entrata, fontana, casa bianca sullo sfondo, questo sarebbe tutto l'ingresso, qua vedi che già ci sono anche le cose per gli ombrelloni lì a destra e a sinistra, e poi scendiamo, poi dopo ti faccio vedere quella parte là, quindi fontana, questo è il panorama, terrazze, ecco qua, questo è sempre tutto con gli ombrelloni e la filodiffusione a pioggia, come dicono loro, vedi ci sono quelle cose che scendono, i vasi al contrario, là, scende vedi terrazza, lì c'è sempre la villa, quella che poi ti farò vedere dopo, questa qua sul ripiano con le scale a fianco è il posto dove si farebbe il taglio della torta, in quella mezzaluna, qui si farebbe eventualmente la cena, quindi con i tavoli, perché il buffet tu lo fai nella terrazza che sta lì sopra, e qua sotto invece in quest'altra sottoterrazza c'è il momento con i divanetti, quando uno magari si alza la cena e va a fumare, comunque il panorama è questo, il panorama è questo, qui invece c'è Maurizio, ok, poi prima di farti vedere quell'altra parte là, la discoteca si farebbe anche qui, quindi uno scende, con la porta è lì, però adesso, sì, lì sopra vedi la terrazza che vi ho fatto vedere prima, comunque qua dentro c'è la discoteca, andiamo a vedere se è aperta, così vi faccio vedere che stanno facendo i lavori, per capire la grandezza, no, è chiuso, volendo però se potessi stare bene, no, è chiuso, va bene, comunque piccolino va bene per le persone che ci saranno, c'è il costo aggiuntivo, adesso ti farò però risalire da sopra, io risalirò, qua, hanno anche acceso la fontana, così, la farò vedere, l'entrata, vi dicevo di prima, ok, questa è la fontana accesa, ok, e questo percorso è la villa, andando avanti, giardini, palme, ok, questo era il posto del taglio della torta, se vi dicevo di prima, questa è la White House, comunque, come vedete, in quel primo piano lì dove stanno le finestre, quella sarebbe la sala dove si farà il ricevimento, la scena interna, se ove mai uno volesse, o anche a piano di sopra, che è ancora più panoramica, voi farò vedere la sala di dentro, per far capire lo stile, sperando che entrata, ok, va solo, questa è la sala interna, interna, pure non è male, vedi, i lampadari, questa credo che sia un'organizzazione della tavola, dell'uscita, bagna al piano, ci sono dei candelabri, grazie, 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 grazie,